eccoci con frederich keshkov alla partenza della prima tappa del giro d'austria con quali ambizioni parti qua sono qui se sto bene provo a fare classifica però siamo siamo un po ci sono altri prodotti che stanno bene e vediamo se non sto bene io sicuramente c'è qualcun altro il percorso sembra molto duro lo conosci sì mi ricordo fatto due anni fa e mi sembra molto sì molto dura qualche tappe per oggi forse non troppo dura però poi ci sono tappe come domani e anche un po più avanti con penso che lo scopner che si fa che anche lunga che allora ci sono tanti tappe anche molto dure grazie mille